È in un girone duro, non è facile, confido molto in spalletti, però dobbiamo lasciarlo lavorare tranquillamente, la gente, la stampa soprattutto, non deve chiedere l'impossibile, non si può far quadrare i conti in 4 e 4-8, per cui sta lavorando, sta mettendo del seme molto buono nel terreno dei giocatori, per cui io mi auguro che possa far bene, forse non in questo europeo, ma a gioco lungo avrà ragione lui.